Purtroppo quando c'è un nucleo evidentemente quasi ossessivo che si impossessa, quindi un pensiero che domina a questo punto la mente di questo tipo di soggetti, evidentemente lui, in maniera assolutamente distorta per amor del cielo, ha ipotizzato, sospettato che vi fosse uno scenario che è ancora in corso di evoluzione, ma anche laddove vi fosse realmente, certo questo non lo giustificherebbe, ma nel suo personale codice, chiaramente distorto e probabilmente anche patologico, questo era uno scenario intollerabile, la cui colpa doveva essere lavata nel sangue come unico modo poi per il sé, per lui stesso per affrontare il resto della vita, quindi la prigione per questo tipo di soggetti non è un deterrente davanti a progettazioni di questo tipo e di esecuzioni di questo tipo, è questo che dobbiamo comprendere, non ipotizziamo, non fantastichiamo sull'idea che le conseguenze fermino le mani di questi soggetti quando sono organizzati e improntati a comunque sanare qualunque tipo di onta, perché il problema principale è questo, il fatto di quello che penseranno gli altri se io non vado a cancellare quell'offesa terribile al mio onore, qui siamo nel patriarcato tossico della peggiorrisma. Ma almeno delle conseguenze che ricadranno o che dovrebbero ricadere su di te, almeno di questo, dovresti fare un pensiero, dovresti dire se io ammazzo due persone vuol dire che verosimilmente un po' di anni della mia vita li trascorrerò in una cella magari con altre 3-4 persone. Lo pensa assolutamente, non è gente che agisce in un vuoto di prospettive, ma lavare l'onta dell'offesa alla famiglia, alla reputazione, anche al potere maschile evidentemente di quella famiglia, in qualche modo è l'elemento che domina le scelte di questo soggetto. Vorrei però dire anche una cosa, permettetemi, vorrei tanto che si potesse parlare al passato di patriarcato tossico, ma le ultimissime ricerche di questi ultimissimi anni ci dicono che ai noi è una mentalità ancora largamente diffusa, almeno nel 30% della popolazione italiana attuale, comprese anche generazioni assolutamente trasversali, comprese anche generazioni molto recenti, molto più recenti della nostra, ragazze che hanno 12, 13, 15, 16 anni, quindi attenzione perché il patriarcato è tutt'altro che in una fase di remissione. Non so se fare una questione geografica. Siamo troppo a Milano, chiuderle prima bisogna. Invece di far uscire il giugno dal sud. Benvenuti a Milano, sperimentiamo anche l'eccesso opposto, ma costruiamo un ponte verso qualcosa di diverso, perché ancora oggi ci sono tantissime donne che pensano che l'ultima parola sulla loro vita ce la debba avere un maschio, padre, fratello, marito o compagno, il che è qualcosa di veramente aberrante. Le immagini che vedete tra qualche istante, da una parte è l'immagine normale, quindi quello che appare ai nostri occhi e dall'altra parte è quella con l'uminol. Guardate le tracce come sono evidenti, guardate proprio le tracce di trascinamento del corpo di Giulia Di Tiago. Ci sono tracce di sangue sicuramente, quelle che vedete un po' più intense, però ci sono commiste anche tracce di detergente, che il lumino reagisce anche con determinati detergenti. Ti posso già dire con la diversa intensità dove c'era effettivamente sangue e dove effettivamente c'è detergente. Non immaginatevi che ci fosse una scia di sangue di questa portata, è sangue che è stato poi dilavato e quindi sparpagliato unitamente a detergente. La parte più chiara è quella del detergente? Sì, la parte più chiara è quella del detergente, dove la percentuale di traccia di sangue è meno significativa. Per l'altro si intuisce anche dal fatto che è spalmata, non c'è la traccia del trascinamento, ma vedi che c'è il movimento circolatorio di chi pulisce. Molto interessante perché ti fa comprendere che se arriva una persona e arriva normalmente senza avere questo tipo di possibilità di accertamento non vede niente, non vede assolutamente niente. Per fare quel tipo di attività bisogna agire in assoluta oscurità e disperdere chiaramente il prodotto per poter fare questo tipo di valutazione. Questo te la dice lunga su quanto effettivamente lui sia stato bravo, perché poi ha ripulito tutto e ha pulito gradino per gradino, perché ripeto c'è una componente matica ma c'è anche una componente detergente. Guarda, questo tipo di soggetti sono dei serpenti assonagli travestiti da peluche fondamentalmente, quindi non mi sorprende assolutamente quello che sta emergendo, anzi mi sta confermando esattamente il fatto. Lui, è chiaro che non si presenta come padre, perché il suo obiettivo, questo è un collezionista di donne, quindi il suo obiettivo è quello di sembrare disponibilissimo, costruire una vita insieme, altrimenti come fai a manipolare una donna e a fargli credere nel sogno che è indispensabile per portarla a sviluppare un legame di dipendenza da un soggetto di questo tipo? Devi abbottarla di cazzate, scusate la parola, ma dall'inizio della relazione, subito, quindi il figlio avuto dal passato è un segnale che qualcosa non va, perché è un figlio che tu non stai crescendo, quindi qualcosa in te astrettamente potrebbe non andare, neanche troppo astrettamente. Quindi il figlio non c'è, tutto quello che era ingombrante nella sua maschera, nel copione che gli serviva per ottenere maggior consenso, attenzione e chiaramente garantirsi la seduzione in tutti i possibili scenari, era quello di omettere, tagliar via tutto quello che poteva in qualche modo diminuire lo scintillio che emanava da questo soggetto, quindi sparisce il figlio, sparisce la compagna, sparisce tutto, quindi dall'eliminazione simbolica, quella fisica, purtroppo il passo non è così breve, non è così ampio. Ci sono delle mail in soldoni che nessuno ha guardato, nessuno ci ha guardato dentro per vedere la corrispondenza. Sono rilevanti, loro l'hanno esaminate, ci sono informazioni rilevanti, perché questo è un po' il problema. Sanno che esistevano queste cose. Questo è da capire però, la rilevanza in termini investigativi di questo tipo di sviluppo, posto che il vero ostacolo in questa storia è dimostrare l'azione di un terzo soggetto in relazione al decesso. Ora, il fatto che lei avesse altre mail, per carità, sicuramente è un elemento che onestamente mi sarei aspettata che venisse verificato all'epoca dell'indagine principale. Fanno bene a chiedere questo tipo di approfondimento, però attenzione perché qui c'è un GIP che deve prendere delle decisioni sicuramente delicate e deve valutare l'utilità di eventuali accertamenti. Non è che tutto quello che viene chiesto arbitrariamente viene disposto. Il GIP deve avere, in qualche modo, idea della possibilità che quell'accertamento possa portare a conclusioni diverse rispetto a quelle attuali. Questo è un punto fermo. Mi aspetterei qualcosa di un po' più solido rispetto a un discorso legato a eventuali mail, perché, ripeto, dubito che anche laddove ci fosse una dimensione omicidiaria potesse transitare in quel tipo di circuito, posto che le mail principali e il cellulare non ha fornito riscontri di questo tipo. Ecco, però la domanda è perché Liliana dovrebbe aver avuto altre mail rispetto a quella diciamo nota? Perché se fosse, se si trattasse di un telefonino, allora voleva avere un modo per comunicare con terze persone senza essere, diciamo, monitorata, controllata da Sebastiano. Delle email, delle cassette di mail, delle mail alternative, una persona le fa per quale motivo? Forse anche per lo stesso, però, perché sono delle mail di cui nessuno sa l'esistenza. Ma può essere che sia una questione di riservatezza, può essere che sia semplicemente utile perché doveva, che ne so, attivare un profilo su una particolare applicazione, piuttosto che attività apparentemente abbastanza banali. Cioè, per carità, è assolutamente un quesito coerente e anche, diciamo, giusto da porsi. Però, ripeto, la problematica principale è aggredire la conclusione della procura sul suicidio. Perché se quella non viene sufficientemente messa in discussione, faccio fatica a pensare che un G possa decidere di fare un accertamento solo sulle mail. No, però qui torniamo a quella, diciamo, a quel contrasto tra le prove scientifiche e la prova logica, non so se si può definire logica, cioè quando la prova scientifica dice è morta non più di tre giorni e quando la vedi vestita esattamente come, verosimilmente, quando, o come ci dicono che era vestita quando è scomparsa, con la stessa colazione, in ordine, curata, allora dici, può essere rimasta 20 giorni all'aperto. Poi, nella giornata, possiamo essere certi solo della porzione esterna degli indumenti. Attenzione. Sì, certo. Noi possiamo essere certi solo che avesse gli stessi, diciamo, grossomodo, pantaloni e lo stesso giubbotto. Certo. Quello che indossava sotto nessuno lo sa, mi pare di dire. No, nessuno. Perché non scrivere un messaggio? Però attenzione, la fede, la fede lasciata a casa. Lasciata sul comodino. Io ho altri tre casi di suicidio. Ma stava lasciando il marito. Ma altro, è, però, attenzione, cioè, un conto è, io ti lascio, ma te lo comunico. Ok? Cioè, quella mattina lei era prevista che tornassi a casa. Sappiamo che gliel'avesse comunicato la sera prima. Sì, però voglio dire, quel giorno non era previsto che lei andasse a vivere da Claudio. Claudio non ci ha mai detto una cosa del genere. Però può esserci stata una discussione la sera precedente o quella mattina. Sì, ma la sera precedente sicuramente qualche un po' di maretta c'era, non sappiamo per quale ragione, però più o più testimoni l'hanno confermato. Va bene, fin qui, ok. Però quella sera, quella non era la giornata del, diciamo, fatidico svelamento di questa storia, perché era prossimo, era nei prossimi giorni sicuramente, perché era il weekend, diciamo, erano i giorni precedenti al secondo weekend, che doveva in qualche modo iniziare ufficialmente questa nuova vita, ok? Però lei quella sera era attesa a casa, non era previsto che si trasferisse da Claudio. Assolutamente. E quindi a me il passaggio della fede la leggo con un po' un messaggio abbastanza importante. Se vogliamo ragionare in termini di cosiddetta nota suicidaria, considerate che neanche sotto il 15% dei soggetti che si suicidano lasciano messaggi. Quindi attenzione a non, perché la leggenda metropolitana vuole in qualche modo una sorta di iconografia, no? Se mi suicido lascio scritto, saluto, mi dispiace, quant'altro. Ma attenzione perché è una minima parte che lo fa. Guarda, qui poi è una spiegazione forse quella più banale da dare in questo caso, perché la tipologia di superficie è abbastanza refrattaria, rilascio di impronte. Non considerate che ogni contatto generi necessariamente una traccia. Ma è anche passato due notti, perché due notti almeno lì la passate, in quel tipo di contesto dove c'è una componente di umidità più rilevante, di forme notturne, che interferiscono sulla qualità del quale della traccia presente. Attenzione. Quindi una traccia di guanto mi pare una roba un po' difficile. Guarda, è quello che hanno fatto vedere ieri sera. Può appartenere a questo capitolo di prove aggiuntive che i legali della famiglia di Liliana sta raccogliendo per consentire. Mi pare improbabile che ci sia la traccia di un guanto, sinceramente, perché i guanti solitamente si costrano per non lasciare tracce. Poi, no, no, ma io prendo atto che tu l'hai sicuramente visto e sentito. Mi suscita una certa perplessità. Il problema, e questo è un altro passaggio cardine, Milo, e credo che questa cosa nessuno l'ha mai messo in evidenza. Qui il problema è proprio questo. Qui sono due sacchetti posti al capo, fissati con un cordino in maniera lasca, cioè non era serrato. Non stretto. Ma la tecnica della plastic back suffocation non è che presuppone che ci sia necessariamente un serraggio al collo, perché il soggetto fa aderire la superficie dei sacchetti, in questo caso. L'elemento che mi colpisce onestamente qui è che i sacchetti al capo siano due. Ora, se un soggetto deve simulare un suicidio, ipotizziamo che sia un omicidio, comunque l'ipotesi della omissione di soccorso con simulazione di suicidio, mettiamola, che forse è l'ipotesi che mi convince un pochino di più alternativa al suicidio, ma è difficile che uno ipotizzi di metterne due, perché sono sacchetti molto sottili, d'accordo, ma se io il soggetto ce l'ho già deceduto, perché mi devo adoperare a metterne due? Ne basta uno. Se devo simulare, basta e avanza uno, no? Perché due? Qui però manca… A me è un passaggio questo che mi colpisce. In più, il corpo è semi coperto dai sacchetti della spazzatura, quelli neri. Quindi una larga porzione del corpo è visibile, peraltro perfettamente preservata. Così come gli indumenti, perché non hanno alcun tipo di segno di collutazione o altro, neanche di trascinamento. È curioso, perché se io devo portare un cadavere di sfarme e farlo sembrare della spazzatura, e perché ne lascio un terzo abbondantemente scoperto? Perché sono micro abrasioni, che comunque non hanno nessun tipo di peso in termini di dinamico micidiale. Cioè nessuna di quelle abrasioni è in grado di giustificare la morte di Liliana. Né tantomeno è possibile stabilire con esattezza l'epoca in cui si sarebbero formate. Perché nessuno lo sa. Però è anche vero che c'è un disaccordo evidentemente su questo, fra chi ha fatto questa perizia per conto della procura, quella ufficiale, e chi l'ha fatta per conto della famiglia che dice che invece lei qui ha delle chimosi che sono compatibili. Un conto esaminare una salma, un conto esaminare delle foto di una salma, scusate, credo che tra le due vada privilegiata l'ipotesi di chi quella salma l'ha effettivamente esaminata. Fare delle valutazioni sulle foto è sempre molto rischioso e questa è una delle prime cose che ci insegnano proprio. Grazie a tutti.